Le prime notizie di martedì 23 aprile. Due uomini di 46 e 48 anni di Pulsano e Palagianello in provincia di Taranto sono morti ieri pomeriggio nello scontro tra l'auto su cui viaggiavano e un tir lungo la provinciale 41 che collega Altamura alla terza nelle vicinanze della zona industriale di Jesch. Il conducente del camion non è grave. Un insegnante in pensione di 83 anni è morto ieri mattina precipitando da una finestra del terzo piano del municipio di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. La tragedia si è svolta davanti agli occhi di decine di passanti. Non si sa se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Un'officina da gommista di proprietà di due fratelli di cui uno agli arresti domiciliari era stata trasformata in una centrale dello spaccio di cocaina, hashish e marijuana e quanto hanno scoperto i carabinieri a San Pietro Vernotico dove hanno arrestato cinque persone, tre in carcere e due ai domiciliari. Due chili di cocaina sono stati sequestrati sempre dai carabinieri a Torchiarolo in casa di un 36enne Daniel Tafuro che è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Continuano gli assalti ai Postamat ma questa volta sono fuggiti a mani vuote i banditi che hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale di via Isonso a Trinitapoli nella BAT. Nonostante la potenza della deflagrazione che ha provocato gravi danni all'edificio i quattro ladri non sono riusciti a bucare la cassaforte. E furto invece riuscito nel cavò della banca Unicredit di Corso Garibaldi a Cerignola. Decine di cassette di sicurezza ieri mattina sono state trovate aperte e svuotate. Al momento non si conosce l'entità del furto perché solo i titolari sanno cosa c'è all'interno delle cassette né si sa in che modo i ladri si siano introdotti nell'istituto di credito. Sono oltre 360.000 i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sequestrati dai finanzieri di Taranto in nove diverse attività commerciali del capoluogo e della provincia. Tre prodotti sequestrati, casalinghi, giocattoli e bigiotteria. Michele Laforgia, candidato sindaco a Bari per il Movimento 5 Stelle, ha rivelato che Alfonsino Pisicchio, del quale era avvocato, gli mostrò il whatsapp con cui Michele Emiliano effettivamente lo avvisava dell'evoluzione dell'indagine a suo carico e lo invitava a dimettersi. La procura di Bari aveva già avviato accertamenti su una presunta fuga di notizie. Non solo Brindisi, anche Gravina e Altamura insieme, oltre ad Alberobello e forse Galatina, si preparano a correre per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Primo passo la presentazione della manifestazione di interesse al Ministero della Cultura entro il 3 luglio. Si aprirà il 17 luglio con la norma di Vincenzo Bellini, la cinquantesima edizione del Festival della Valle d'Itria organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi. Meteo al mattino, rovesci concentrati al confine tra le province di Brindisi e Lecce con il rischio di temporali. Nel pomeriggio le piogge interesseranno anche Foggiano, Bat e Barese. In serata ultimi rovesci lungo le coste adriatiche. Temperature fino a 22 gradi nel Foggiano, non oltre i 18 sul Salento, 20 sud-occidentali in rinforzo, mari molto mosso lo Ionio, meno mosso l'Adriatico. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.